Il 250esimo giorno del governo Monti fa segnare il record storico per la disoccupazione. A giugno, fa sapere l'Istat, il numero dei disoccupati è di 2.792.000 unità. Si tratta del massimo dal 2004. La disoccupazione nel nostro paese è al 10,8%. Il dato più alto delle serie storiche mensili, vale a dire dal 1 gennaio 2004. L'Istituto Nazionale di Statistica ha spiegato che si tratta anche, guardando le serie trimestrali, del dato più alto dal terzo trimestre 1999, con aumento di 0,3 punti percentuali rispetto a maggio 2012 e di 2,7 punti rispetto a giugno dell'anno precedente. Confrontando i dati di maggio, ci sono dunque 73.000 disoccupati in più per una crescita su base annua pari al 37,5%, ovvero di 761.000 disoccupati in più dell'anno scorso. Intanto la borsa fa segnare un meno 0,94% e lo spread tra BTP e Bund torna a sfiorare quota 480 punti.